Amici bellini, buon martedì, sono in vena di Vesuvio, New York non ha importanza, questo è la sfondo che avevamo anche ieri in live, ci siamo divertiti moltissimo, almeno la live è stata molto vivace sicuramente, molti commenti, numeri veramente importanti, ma non siamo qui ad atteggiarsi e allisciarci le penne del Pavone, di Rita Pavone, dobbiamo fare l'analisi tattica, cominciamo! Allora amici miei, come va? Come state? È un martedì pazzesco, ovviamente perché è un martedì di analisi e quindi ci divertiamo moltissimo, benvenuto Bunky Bear, Bunky Bear, I don't know, I don't know if the pronunciation should be in English, but anyway, grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla live di ieri, se ve la siete persa perché magari eravate affaccia andati a cercare la partita, vi consiglio magari di recuperare le fasi salienti, c'è il timer, quindi potrete vedere le mie reazioni in diretta e possiamo parlare di questa partita, se magari non vi siete iscritti ancora al canale, potete farlo adesso, potrebbe essere un'idea sicuramente, lasciare un like di cortesia, la cortesia è una bella cosa nel mondo, passiamo subito all'analisi tattica perché abbiamo parecchie cose di cui parlare e volevo ringraziare anche il mitico Angelo Pierantoni che è stato il mio inviato speciale a Castel di Sangro per la partita, abbiamo avuto inviati a Castel di Sangro, abbiamo avuto inviati in Polonia e abbiamo avuto inviati in Germania, aspettiamo di sapere l'ufficialità della prossima amichevole il 14 agosto perché ancora non si sa, si diceva Perugia ma ancora non si ha l'ufficialità, ma direi di passare senza dubbio e senza indugio, senza perdere altro tempo, prima di perdere altro tempo, se qualcuno vorrà essere inviato alla prossima gara, qualcuno che si trova a Castel di Sangro o che andrà allo stadio perché credo sarà a Castel di Sangro, contattatemi su Instagram o sul canale Telegram e per le notifiche, comunque iscrivetevi al canale Telegram, basta, basta, abbiamo parlato fin troppo, andiamo con un Umbra Bam, adesso si parla di nuovo di Umbra Bat, è vero, molti tifosi non sono d'accordo, signori la formazione va schierata così, va schierata così, mi dispiace per quelli che ancora vedono e intravedono un 4-2-3-1, purtroppo le posizioni medie parleranno chiaro, quando avremo analisi statistiche di posizioni medie, mi sembra che è evidente che Lobotca era il perno centrale, poi è chiaro che durante lo sviluppo Fabiano ogni tanto si poteva abbassare per dare una mano, Zielinski si poteva abbassare, ma addirittura abbiamo visto molto spesso Insigne a centrarsi e Zielinski a occupare la sua zona, quindi è a tutti gli effetti mezzala, poi dopodiché quando esce Fabian ed Elmas che si va a inserire qui, quando c'è stata quella bellissima azione, Zielinski era più dietro, quindi Elmas si va ad inserire, a tutti gli effetti mezzala ragazzi, il 4-2-3-1 in questo momento è un lontano ricordo, poi dobbiamo capire al ritorno di Dem se qualcosa potrebbe cambiare, ma Lobotca in questo momento è a tutti gli effetti, il regista di questa squadra, e mentre vi farò degli appunti, degli spunti e delle intuizioni su quelle che sono state le cose tattiche positive e negative, andiamo a parlare delle prestazioni singole dei giocatori, Meret, io mi sento di scagionarlo dopo aver rivisto più volte il goal, vi faccio vedere un paio di screenshot, no, stanno dall'altra parte, come è possibile? Per farvi vedere gli screenshot dobbiamo fare un attimo un'ambra batta al contrario, e vi faccio vedere questi due screenshot, allora, come vedete qui su questo calcio d'angolo, la battono corta all'indietro e quindi partirà poi il cross dalla sinistra con traiettoria ad uscire, la traiettoria poi scagionerà, secondo me, Meret, che magari è colpevole in un secondo momento, ma come vedete da questa inquadratura sono molto stretti i quattro difensori, i quattro ultimi uomini a finale del Napoli, ho detto a finale, brutto proprio, come vedete Mario Rui è lì, c'è Koulibaly, poi c'è Manolas, e poi c'è Osimene sul primo palo, come è logico, davanti ad Osimene è Di Lorenzo, poi c'è Lobotca più avanti, a seguire, poi c'è Insigne al centro, credo sia Apolitano verso la bandierina, insomma, il secondo screenshot è quello che parla chiaro, perché quando la palla arriva in questa zona, Mario Rui avrebbe dovuto, vedete il numero quattro loro, Mario Rui avrebbe dovuto non guardare il pallone, non farsi attrarre dal pallone, anche perché non sei altissimo, diciamoci la verità, non sei altissimo, allora su questa zona tu devi scalare sul numero quattro, che poi finirà lì, e a scalare tutti, quindi Koulibaly avrebbe dovuto prendere il numero quattordici, Manolas avrebbero dovuto stringere, eccetera, 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 su questo controcross, ovviamente fanno un mezzo pasticcio sia Rui che Meret, nessuno riesce a metterci una pezza, e poi quando il pallone sfila, do la colpa sia a Manolas, sia a Osimene, sia a Lobotca, sia a Di Lorenzo, che avrebbero dovuto aggredire con pessimismo, bisogna essere pessimisti in queste situazioni, aggredire la palla, buttarsi a corpo morto, per cercare di evitare, posso capire che è un amichevole, l'attenzione può essere non ai massimi livelli, un pochino anche di stanchezza ci può stare, speriamo però, perché sono gol che il Napoli prende spesso, speriamo di non rivedere queste cose qua, mancanza di attenzione, di concentrazione, perché sennò chiavette, le solite chiavette. Quindi Meret lo scagioniamo un pochino, parliamo di Di Lorenzo, che ancora non mi sembra al 100% della forma, il ragazzo veramente non ha staccato un attimo tutta la stagione da titolare, dopodiché l'europeo, e adesso un po' di vacanze, adesso deve recuperare piano piano, però Malcui quando è entrato, nonostante qualche difficoltà, è riuscito a stare sul pezzo, veniva superato, recuperava, non mollava mai l'avversario, e quindi niente male, anche una discreta spinta da parte di Malcui nel secondo tempo. Manolas così così, accorciava sugli attaccanti ogni tanto facendo dei falli evitabili, allarga le braccia, l'abbiamo detto in live, puoi allargare le braccia e non ti chiama il fallo, idem Rachmani, questa questione dei falli, falli, fare fallo e fare fallo e non andare a far falle, hashtag sotto nei commenti, falli a far falle, perché? Perché ne parleremo più in là quando parliamo dei centrocampisti. Coulibaly anche lui così così, nel senso che qualche volta è stato superato, io mi aspetto che Coulibaly di fronte a un avversario più scarso, nettamente più scarso, si deve fare un sol boccone e quindi non deve far passare nulla, qualcosina è passata ma nemmeno più di tanto. Oggi deve essere l'analisi del pompiere, Valerio Grisù da New York, perché devo fare il pompiere, come ho dovuto fare il pompiere per la partita con il Bayern di Monaco, che non ci doveva esaltare. Come non sono stato contentissimo della partita con il Visla a Cracovia, sono un po' più contento della manovra che ci ha portato comunque a creare delle situazioni, non dobbiamo sconvolgerci se abbiamo vinto solamente 2-1, non dobbiamo sconvolgerci nemmeno se avessimo perso, perché poi ci sono altre scuole, ho visto che la Juventus ne ha presi tre, però dal Barcellona ovviamente, però dal Barcellona senza Messi, insomma tutte le amichevoli veramente lasciano il tempo che trovano in questa fase della stagione, certo è che ci stiamo avvicinando paurosamente, in maniera velocissima, all'inizio del campionato e diceva un amico mio carissimo, l'amico di mio padre Gino Grossi, quando io mi preoccupavo per un esame magari, lui mi diceva, non ti preoccupo, perché ti preoccupo? Quello che è fatto è fatto, Quello che non è fatto andava fatto prima, quindi è inutile preoccuparsi adesso, e quindi il problema è il del mercato, quello che non è stato fatto probabilmente andava fatto, perché stringono i tempi e se parte qualche giocatore sarà anche complicato poi sostituirlo all'altezza. Mario Rui, signori, Mario Rui mi dite voi nei commenti, perché sarà un giocatore la cui prestazione divide e dividerà, perché qualche cosa di buono ce l'ha fatta vedere, resta responsabile sul gol purtroppo, ha tentato anche delle sovrapposizioni, spesso è arrivato anche in zona cross, qualche sovrapposizione centrale, perché lui tende molto ad accentrarsi, l'intesa con i signi comunque funziona sempre, si conoscono bene, però è quando entra Zanoli, che io vedo un pochino di prospettiva. Signori, quando andate a rivedere gli highlights, facciamo i complimenti a chi si occupa dello YouTube ufficiale del Napoli, perché subito sono stati postati i highlights in tempo record, bene, bravi, vedete che quando fate le cose buone, vi dico anche bravi, quando lo meritate, lo meritate. Signori, andate a rivedere, quando entra Zanoli, a parte le cose semplici che fa e bene, fa un passaggio no look per Gaetano, che è una cosa, un bijou, un bijou, al pari del passaggio che poi farà in signe per Elmas, per il 2-1. Lobotka, e qui è il centro focale, il punto chiave di tutta la stagione del Napoli, quando giocherà Lobot, che si giocherà con questo sistema di gioco. Signori, queste due sono mezze ale, quindi, quando noi cerchiamo, perché Spalletti sta chiedendo coraggio, mi sembra evidente che Spalletti stia chiedendo coraggio, se perdiamo palla molto alti, cerchiamo di recuperarla molto alta, quindi occupiamo molto lo spazio qui. Lobotka resta solo, resta molto spesso solo, e ci esponiamo al possibile contropiede. Lobotka è stato bravo in diverse occasioni a spendere il fallo, perché devi fare fallo piuttosto che lasciarli andare. E i rumori, cosa che il Napoli molto spesso, di cui molto spesso il Napoli è stato ingenuo, non ho detto bene di cui, però mi capirete. Molto spesso il Napoli per non spendere un fallo ha preso contropiedi e abbiamo preso gol. Lobotka il fallo lo ha speso, perché poi la linea di difesa, anche se sono tutti e quattro belle linee a scappare all'indietro, vengono presi dai giocatori che stanno tra le linee, quindi Lobotka deve spendere il fallo. La cosa importante da sottolineare è che magari non ti ammoniscono nell'amichevole, ma in campionato non ci saranno santi, non voglio dire brutte parole, non ci saranno santi, e falli tattici poi te li fanno punire, di conseguenza vieni ammonito, di conseguenza non puoi giocare con intensità la seconda parte della partita, di conseguenza arriveranno di fide, di conseguenza servono altri centrocampisti, perché in questo momento noi possiamo contare solamente su Elmas, il quale Elmas rileva rileva un Fabian ancora non al top della forma, un Fabian che ha provato in qualche occasione a giocare ad un tocco, e questa mi è piaciuta molto, perché è una delle cose che rimproveriamo a Fabian, quella di toccare il pallone una volta in più, in questa zona è arrivata anche al tiro, il primo tiro della partita è stato suo, è finito di poco a lato, però, ripeto, serve molto molto più dinamismo, serve tanta corsa in questo centrocampo, perché c'è un lavoro continuo anche di copertura da fare, altrimenti stu guaglione magro e buono, purtroppo si troverà in difficoltà. In questo momento deve essere Elmas il titolare, non c'è dubbio, Zieninski fa la partita, Elmas fa un gol tra l'altro bellissimo, proprio tutta la costruzione del gol è bellissima, si parte da Mario Luig, con un tocco di esterno serve Insigne, Insigne alza la testa, trova con questo filtrante Elmas, che batte il portiere, scusate i rumori di notte, una cosa che non si spiegano a New York, Zielinski non male, meglio rispetto alla partita in Polonia, un po' più propositivo, ancora mi aspetto qualcosa in più, secondo me sta ancora ragionando sulla nuova posizione, perché non è lo Zielinski sotto punta, non è lo Zielinski seconda punta vicino ad Osimen, quando la palla ce l'hanno gli avversari, deve ancora ragionare su dove sistemarsi, e quindi c'è un po' di lavoro tattico da fare, e Spalletti dovrà spiegare delle cose. Bene, Politano ha inizio partita, un paio di spunti li ha avuti, ha provato come al solito, cosa che io sempre adoro, quando arrivi fino in fondo e crossi col destro, sei imprevedibile, quindi molto bene, e suo l'assist che porterà poi a rigore, rivedendolo rigorino, su Osimen, c'è un sandwich diciamo, nella scivolata si prende il pallone, ma poi c'è il sandwich su Osimen, il quale Osimen è un altro di quelli che dividerà la tifoseria, perché qualche cosa, per qualche cosa è ancora acerbo, parliamo di, strettamente di controllo di palla, e magari di movimenti senza palla a dettare il passaggio, molto spesso si trova a occupare una zona che non è ideale per il passaggio, però al contempo è sempre una forza della natura, quando riesce quel famosissimo colpo di petto, dove lui si inarca completamente, la mette a terra e scappa, diventa un pericolo per tutti, lo devono prendere a calci più volte per farlo cadere, quindi sotto questo punto di vista bene, sotto altri deve crescere, ma Spalletti ci sta lavorando, quindi speriamo che il lavoro sarà fruttuoso, chiudiamo con Insigne, ma già c'entra un po' macchinoso, non ne parliamo nemmeno, Gaetano non mi è dispiaciuto, è andato anche al tiro due volte, è stato sfortunato, Insigne ragazzi, il capitano sta bene già, il capitano è già in una forma discreta, segna il rigore, Chilke è sempre bene, ispira, catalizza il gioco, perché il gioco, la fascia forte è sempre la fascia sinistra, in questo momento, più che quando, insomma, Di Lorenzo e Politano, l'anno scorso hanno lavorato di più, Insigne, secondo me in questo caso, Insigne e Marrui sono la fascia forte, quando poi tornerà Lozzano, si potrà parlare di nuovo, di una fascia destra più pericolosa, però in questo momento, tutti i palloni devono passare per Insigne, che alza la testa, che vede nei movimenti, dice Spalletti, dice vede le cose prima che accadano, ed è proprio vero, perché Insigne ha queste intuizioni, ha provato il tiragiro, non è andato bene, non fa niente, ha segnato il rigore, ce lo teniamo, signori miei, questa è la situazione, io vi ripeto quello che abbiamo detto in passato, non mi sconvolgerei, se il signor Zanoli restasse nella squadra, come emergenza, in una situazione dove il Napoli non compra un terzino sinistro, si affida a Mario Rui, a Spettaculam, e in caso di emergenza, di rotta, vedete com'è importante, di rotta su Cuba, Di Lorenzo sulla sinistra, con Malquit titolare, e Zanoli prima riserva, sia a sinistra che a destra, ovviamente è un adattamento, non è una cosa ideale, ma il ragazzo mi impressiona, e quindi sotto questo punto di vista, sposerei anche questa scelta, un po' sparagnina, ma se non ci sta un terzino all'altezza, se non possiamo comprarlo, facciamo uno sforzo per il centrocampo, perché il centrocampo mi preoccupa non poco, dal momento in cui non avremo Demme per un periodo, dal momento in cui anche al ritorno di Demme, sono pochi, specialmente se giochiamo a tre, sono pochi, perché se Zienischi lo consideriamo mezza punto, è un conto, e allora lì c'hai un As, c'hai Mertens, si può gestire, e qui ne servirebbero quattro, ma comunque, se ne sono tre da questa parte, certo Mertens non lo puoi mettere al posto di Zienischi, e quindi questi tre dovrebbero avere dei sostituti, Elmas bene, Demme quando tornerà, ne serve almeno un altro, possiamo puntare su Gaetano? Non credo, possiamo puntare sul Palmiero? Non lo so, insomma servirebbe qualcosa in più, perché il centrocampo lo sapete, è creazione di gioco, è anche distruzione del gioco altrui, se lasciamo Bobbotta da solo, diventa un problema serio, poi in attacco qualcosa succederà, non sappiamo se il mercato effettivamente esploderà, se Lautaro se ne andrà, se ci saranno quindi più soldi a disposizione in Italia, con il Valzer delle punte, però in questo momento ci troviamo, Osimen che speriamo non abbia mai un raffreddore, Insigne che sappiamo le giocherà praticamente tutte, ed in questa zona il sostituto avrà poco minutaggio, Politano con Lozano che spero che torni al più presto, aspettiamo il ritorno anche di Petagna, perché a quanto fare problemucci fisici finora, e dobbiamo valutare le condizioni di Mertens, che secondo me può fare un altro anno a buoni livelli, dopodiché bisognerà prendere dei provvedimenti da New York, Valerio Fluido è tutto, questa è la mia umile analisi, che magari potrebbe portarvi a un mi piace finale, perché qualcuno se l'è guardata così sul divano, bello e rilassato e spaparanzato, eppure ci sta, adesso è il momento di andare sul telefonino, lasciate il mi piace, e così siamo tutti più contenti, guarda che possiamo arrivare a 10.000, poi non so quando, ma ci possiamo arrivare, vai! Quindi dobbiamo arrivare a 10.000, e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, e di più, dai, basta, basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime, mi ricordo, mi chiamo, qui sta passando, ciao! Grazie.